La Big Studio Movie è in compagnia di uno dei grandi attori del teatro italiano, Lello Arena. Io ringrazio per la disponibilità di questa intervista. Non stai manco parlando di me, ho detto ci avranno un altro attore da intervistare, perché grandi attori da queste parti non se ne trovano. Però va beh, insomma, grazie tante del grande, anche dell'attore che non è male, insomma. Sono due cose che... Lello, questa sera al Teatro Comunale Maria Caniglia va in scena lo Scarfalietto. Quanto può essere attuale il messaggio di Edoardo Scarpetta, in particolare la figura di Felice Sciosciamocca? Lo Scarfalietto è di attualità, perché considerando che un testo del 1870 passa, era già un testo che parlava di separazioni, che all'epoca come oggi sono all'ordine del giorno. Si parla di, lo dico in dialetto e poi traduco, di pezzenti, sagliuti. Bella, bella educazione che va imparato vostro padre, ma che voi poteva imparare? Un baccalai buono! Un baccalai buono, un baccalai buono! Prego, prego, papà, papà è la commendatore! E' il commendatore dei baccalai buoni! Commerciante all'ingrosso di pesce veloce del Baltico! E' il vento del mondo sempre baccalai! Sta bene! Allora, quanto è questo? Ricordatevi che vostra mamma era una portusara, faceva i buchi, i portusi le asola vicino ai vestiti, e spigliava, ma saliva a portusa, spigliava! Ma non si è mai presa mai, ma saliva! No, questi erano fatti suoi, che li faceva gratis i portusi, per avere la sua vizia di portusare! Si parla di gente che ha un ruolo nella borghesia napoletana solo perché ha i soldi, ma è gente ignorante, gente viziata, incapace di comprendere gli altri solo perché hanno i soldi! Amalia è la moglie di Felice e un'altra pezzente si aiuta come lui, per cui insieme fanno una bella coppia! E di coppie così in giro se ne trovano tanti, di coppie ignoranti che non abbiano nemmeno la capacità veramente di capire come si può stare insieme se non per interesse, se non certamente per amore. Questo è quello che mi dà fastidio, me lo voglio a porto, me lo voglio a porto, me lo voglio a porto, me lo voglio a porto! Madonna, Madonna! Poi da questa bellissima coppia che va in scena nasce tutta una serie di equivoci a tutto vantaggio del pubblico che si diverte, ride e probabilmente ride di se stessi perché insomma si fa presto a ridere dell'ignoranza, si fa presto a ridere delle separazioni, si fa presto a ridere dei pezze in disaiuti ma poi bisogna fare molta attenzione perché insomma in mezzo a noi ce ne stanno ancora parecchi purtroppo. Come è stato lavorare in una compagnia diciamo al 99% tutta napoletana? Beh, Scarpetta diciamo che lo chiedeva quasi d'obbligo perché bisogna conoscere il repertorio, bisogna conoscere proprio il tessuto, le provenienze, i modi che questi personaggi hanno per poterli raccontare al pubblico, per cui nei ruoli canonici ci sono degli ottimi attori napoletani che ben sanno da dove vengono e che cosa accontare. Quelli che invece, come dire, erano dei nuovi arrivi che possono anche, come dire, portare una contaminazione anche proprio linguistica e anche proprio di stile all'interno della compagnia sono chiaramente molto ben accetti perché fanno anche quel tocco di diversità che uno magari non si aspetta da una compagnia napoletana e invece c'è. Senti Lello, si iniziò col teatro, poi tanta televisione, tanto successo al cinema e adesso si torna al teatro, potremmo dire al primo grande amore? Eh, si torna a tutti gli amori che uno può frequentare perché, come dire, soprattutto quando c'è una bella idea da portare o al cinema o in televisione o al teatro si frequenta quell'idea con la stessa passione perché si capisce che lì c'è, come dire, del materiale utile per preparare per il pubblico una bella serata. E' una graziosità che io dico, queste mie aziende ci avete abituato, perché io sono tutto grazioso. Sì, bella bella. E' un gualfatto. Sì. Stavate, è venuto che una persona venisse a fettarsi la vostra casa al primo piano? Sì, signore. E restate disposti che i proprietari non volete fittarmi al dono? Eh, perché quella che si vuole è mia moglie, voi il cabinete, no? Eh, chi si dai nella capa? Che molla te! Begge al fatto! Sì. Beh, questa signora, questo appartamento serve per una grande artista, distinghissima! Siamo soli? Eh, purtroppo! Si tratta di Emma Garciotti. Allora mia! Poco conta se poi gli amori sono diversi, ma la passione è sempre la stessa, per cui adesso siamo in teatro con lo Scarfarietto, a febbraio ci sarà una fiction nuova, girata l'anno scorso, che è una fiction molto divertente, dove faccio due personaggi, uno buonissimo e uno cattivissimo e poi ci sarà un altro pezzo di teatro, perché facciamo il Don Quixote con Roberto Erlitzka e quindi, come dì, quando parli di queste idee capisci bene che non c'entra niente la televisione o il teatro o il cinema, ma c'entra il fatto che tu capisci che quell'idea può essere una scelta buona per far sì che il pubblico si possa emozionare, divertire e quindi noi che scegliamo prima del pubblico abbiamo questo compito in grado di capire che cosa gli può piacere. Qualche volta ci si indovina, qualche volta un po' peggio, ma insomma, come dì, non sempre le frittelle vengano col buco, insomma. Un'ultima domanda. Cosa consiglieresti ad un giovane che decide di avvicinarsi al teatro, spesso anche sconsigliato da amici e parenti e nonostante ciò vuole fare l'attore? Allora se gli amici e i parenti lo sconsigliano perché è un cane, cioè perché è uno che non sa recitare, allora, come dì, bisognerebbe stare a sentire perché, insomma, come dì, si ha vita breve, diciamo, quando uno proprio non è capace. Se uno è un po' capace, almeno capace poco, almeno come... Cioè, mia mamma quando parlavo con mio padre diceva, dice, mio padre si chiamava Ugo, diceva, Ugo, quello non lo può fare, lei era l'attore, perché gli attori non sono fatti come lui, cioè, mi spiegava che non era, cioè, non è che era cattiveria, è che non lo potevo fare perché proprio non c'avevo il fisico di un rollo, gli attori, lui pensava a Claire Gable, a Kerry Grant, a Marlon Brando, dicevo, questo dove si avvia, no? Invece, in realtà, poi, quello che conta, ed è il vero consiglio da dare, è che non si può recitare per la propria vanità personale, non si può recitare per le bollette perché uno deve pagare le bollette, non si può recitare perché uno vuole diventare famoso, non si può recitare perché si vuole diventare ricchi, non si può recitare perché uno ha in sala una che gli piace molto e che magari pensa che dopo ci nasce una bella storiella, si deve recitare perché si racconta una storia al pubblico, se uno ha quella passione, allora pure se, come dire, un po' scorfanielle, un po' che non gli vengono bene le cose, se ha quella passione, poi, prima o poi le cose gli daranno un posto di diritto all'interno di questo lavoro, che è un lavoro che si fa per gli altri e non per sé. Se uno pensa che lo deve fare per sé, è meglio che ci mette subito perché sarà una carriera piena di cose in fauste, dolorose, a volte molto pesanti da sopportare. Per cui, secondo me, un giovane dovrebbe interrogarsi molto seriamente se questa cosa la vuole fare per sé o per gli altri. Se la vuole fare per sé, è meglio che cambia mestiere. Se la vuole fare per gli altri, ben venga perché, come dice, ci sono riuscito io, ci può riuscire chiunque. Ringraziamo di tutto cuore Lello Arena e speriamo che, anzi, siamo certi che il pubblico di questa sera si divertirà tantissimo. Sì, poi magari la prossima volta, una maglietta un po' meno viola te la potresti mettere, con sue etudine, insomma. Diciamo che è un bel punto di prugna, ho fatto l'intervista solo per questo, se no te avrei chiesto di cambiare, su quelle cose di teatro, su delle stupidaggini, ma insomma ci si tiene un po'. Non è viola viola. È un po' un bel punto di prugna, diciamo. Se ci sa uno che ride un po' meno è colpa tua. Grazie, grazie tante, grazie.